Piazza Duomo, pieno centro storico. Da lunedì cambierà completamente la viabilità. Si creerà sicuramente un problema per i parcheggi perché non sarà più possibile parcheggiare ma cambierà anche la circolazione nelle strade e attorno. Inizia il cantiere più importante di questo periodo che porterà ad una piazza nuova, un restyling completo compresa la pavimentazione. Sarà fatto a varie zone per non intracciare troppo le attività commerciali. È il secondo cantiere aperto nel giro di pochi giorni perché anche quello del corso stretto è molto importante per la ripavimentazione. Centro storico dell'Aquila, pieno di lavori. Da lunedì sarà allestito anche il cantiere per il restyling di Piazza Duomo e sino al 5 giugno cambierà la viabilità. Si tratta del primo lotto e anche in piazza i lavori saranno portati avanti a step per creare meno disagi alle attività commerciali. Cambiano però molte cose dal punto di vista della circolazione. Sicuramente sorgeranno problemi per i parcheggi. Non sarà più possibile raggiungere Piazza Duomo percorrendo via Sallusti e via Patini e le interdizioni al transito riguarderanno la stessa via Patini, mentre per i veicoli superiori a 4,5 metri di lunghezza il divieto sarà esteso anche alla parte compresa tra le intersezioni con via Tremarie e via Sallustio. Inoltre saranno chiuse via Marrelli nel tratto compreso tra la piazza e via Tremarie e via Tremarie appunto nel tratto compreso tra via Marrelli e via Cavorra. L'altra novità è che su Piazza Duomo non si potrà transitare e parcheggiare all'altezza delle intersezioni con via Patini, via Marrelli, via Cavorra e dal lato della cattedrale di San Massimo. Sarà poi obbligatorio svoltare a sinistra in uscita su Piazza Duomo da via Scimino e via Crispo Monti. Nel tratto di Capopiazza tra Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele sarà istituito un doppio senso di marcia. L'accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso su via Sassa sarà garantito. Il transito sarà solo per i veicoli autorizzati però utilizzando via Cavorra e la stessa via Sassa in uscita in direzione via Sallustio. Allo stesso modo sarà consentito ai solitorizzati l'accesso in via Roio. Anche la piazza avrà la pietra bianca come il corso. Ci saranno anche elementi grigi d'accordo con la sovrintendenza. Il centro attualmente si presenta quindi come un grande cantiere per questi lavori. Quelli nel corso stretto stanno creando, come documentato anche da Rete8, più di un malumore però ai commercianti.